Ehi la gente, benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo tornati su Brawl Stars e siamo tornati, lo vedete, con una nuova tier list ragazzi Siamo arrivati nel mese di giugno e quindi tocca anche alla tier list di Hank, l'altra volta infatti questo era stato il risultato Hank era rimasto fuori, ora Hank è arrivato, ha spaccato Brawl Stars, è stato nerfato, il bilanciamento è stato un po' più metabolizzato diciamo E quindi insomma siamo pronti per resettare il tutto e per partire con una nuova tier list, tra l'altro guardate qua cosa vi dice Tier list segui Ferre su Twitter, Ferre underscore Worka, seguitemi su Twitter, anzi seguitemi dappertutto Una bella iscrizione con campanellina che non guasta mai, un bel 3k like come sempre e il codice Ferre into the shop Ormai le regole le conoscete ragazzi e quindi se conoscete le regole sapete che Rico va messo in TRS, è la prima cosa che si fa in questa serie Tra l'altro prima di cominciare una piccola premessa, oggi dovrebbe essere venerdì, il giorno in cui state guardando questo video Ergo se sarà la settimana del Brawl Talk questa dovrebbero uscire oggi delle notizie, altrimenti il Brawl Talk sarà probabilmente settimana prossima Quindi mi raccomando ragazzi dateci un'occhiata, se non ci sono news, non c'è il son premiere, non c'è niente, ci si becca settimana prossima Ma proprio per questa ragione, visto che c'è il Brawl Talk e comunque sia bene o male in arrivo, ho deciso di fare questa tier list oggi Detto ciò, bando da cianci e cominciamo perché queste tier list sono sempre belle e potenti Al primo posto ovviamente abbiamo Shelly e non solamente al primo posto diciamo in termini cronologici ecco ma anche nella tier list Assoluto TRS, assoluto TRS, forse ancora più forte nonostante i nerf perché la gente ormai ha capito che questo brawler è molto broken e quindi lo stanno usando veramente tanto Nita, Nita la mettiamo momentaneamente in C giusto per darle un livello intermedio ma poi come sempre la sposteremo Idem per Colt che lo facciamo partire così in F ma poi lo alzeremo anche lui Abbiamo un Bull, Bull posso dire che non l'ho più visto da nessuna parte Cioè Colt in realtà qualcosina già lo vedo, Bull lo sto vedendo molto meno, non so se è una impressione mia o cosa ma l'ho visto poco o niente Come se ormai i tank forti fossero altri Però chettino al contrario lo vedo un pochettino più competitivo di Colt nel qualifier che c'è stato l'ho visto, ho giocato molto di più in realtà Quindi lo teniamo un po' più alto E anzi forse avrei dovuto tenerlo un po' più alto già le altre volte Però un tier F, anzi in generale tutti i tier mi sembrano un po' bassi quindi alziamo un po' tutto e andiamo su E il primeros ragazzi, e il primeros io un tier A glielo darei Per ora eh, poi magari addirittura lo porto S ma un tier A però glielo do Poi abbiamo Barley, allora Barley mi piace abbastanza È un po' situazionale quindi non so se metterlo qua oppure qua Sai che ce lo metto ancora in C Barley? Perché anche lì l'ho visto giocato durante i qualifier anche lì che ci sono stati appunto settimana scorsa Ha fatto il suo il ragazzo, ha fatto il suo Pocho, allora Pocho lo andrei a portare in B ma lo tengo sopra Anita È forse più da tier A però per adesso lo lascio lì, ok? Rosa, se non tier F, tier E ma guardate è qua in bilico eh però lo metto in F comunque No vabbè dai lo metto in E, lo metto in E Jesse, allora Jesse la metterei sopra Colt Potrebbe quasi essere da C Jesse Il buon Dynamite, allora io lo reputo più situazionale ancora di Barley Quindi lo devo mettere per forza almeno in D Ma potrebbe anche scendere perché non lo metto sopra Colt sinceramente Eh oddio invece sì, perché Colt comunque sia forse peggio ancora Cioè io in competitive Dynamite per assurdo un po' l'ho visto, Colt proprio zero Ce la giocano eh Vabbè saliamo subito con Tick che lo metto in A Grande Trower Tick, troppo forte, zona sempre tantissimo Ottobit, sai che Ottobit mi è piaciuto nell'ultimo periodo Sarà che l'ho visto giocato più volte perché con Enk andava in combo Però lo azzarderei in un C Lo azzarderei in un C sotto Barley ma gli provo a dare un po' più di fiducia oggi Rico ragazzi invece lo tengo sopra Colt Ma non sopra Dynamite già eh Perché io continuo a vederlo sempre solo in miniera nocia dura È un po' così Cioè Rico Worka è ovviamente re Rico sempre in top Ma il Rico normale Beh Beryl Allora Beryl in realtà lo vedo un pochettino più basso Invece sto mese Lo tengo Ma sai che lo tengo sotto 8 bit Forse è un po' esagerato eh L'ho visto usato meno L'ho visto usato meno Allora Penny Invece Che ricordo era un TRS Scende in A Ma scende anche in B Secondo me ormai Lo possiamo tenere comunque sopra Pocio per incoraggiamento Però sta scendendo In effetti si è presa due nerf e ci sta che scenda ancora un po' E viene utilizzato in competitivo Però noto che Ha spesso anzi quasi sempre un deficit devastante sulla gittata ragazzi Patisce veramente veramente tanto Il buon Carlitos invece non merita la C Cioè non merita la B Ma merita già una C secondo me Se la potrebbe giocare con un Barry Forse un pochettino più sotto Anche se io comincerei già A fare una robetta un po' cattiva Del genere Ecco Giusto per distribuire un po' meglio il tutto Poi dopo ribilanciamo Poi 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 abbiamo Jackie Lei proprio non si è vista neanche l'ombra Quindi F senza ritegno Abbiamo Gaz che invece lui resta molto forte Molto versatile Gli darei quasi un S A Gaz se la merita ancora Un buon mid Un buon tuttofare Bo invece Eh Bo è il nome giusto Perché non so dove metterlo Lo metterei sotto Carl comunque Perché è fortino Ma niente di speciale Quindi però lo mettiamo qua Ems Ems è un buon nozoner Si zona abbastanza bene Lo potremmo mettere Sopra 8 bit Stu ragazzi Lo metto in A sinceramente Perché l'ho visto giocato Proprio Tanto Di nuovo Il fatto che è un brawler competitivo Ragazzi Che è veloce Lo fa schizzare su Come sempre Quindi A Gli do sto mese Mi è piaciuto C'è da dire Che ho visto anche degli Stu Giocati molto bene Ecco i quali fai Questa ricordiamo Che è una tier list Di ferre Proprio Di quelle che sono Un po' le mie impressioni Ci sta che Anzi volutamente La voglio sballare Un po' di più Da un mese all'altro Ok Piperona Piperona la tengo Un pochettino più alta Anche lei Ma la tengo comunque in E Per adesso Pam Ma sai che Pam L'ho vista Giocata veramente poco Dai tiriamo su Piper E Pam la metto in E Ragazzi Anche se sono due Brawler molto forti E attenzione Poi abbiamo il Francone Che ragazzi Francone va bene Giusto per fidare le ulti Quindi lo teniamo Tranquillamente in F Subito E Bull lo comincio a tirare su in E Sincero Ma anche Pam ragazzi Devo tirare su in D E anche Barry E anche Barry lo devo tirare su in C Cominciamo a tirare su un po' di gente Anche Brock Lo tiro su in B BB Io non la riesco a inquadrare La tengo in F Ragazzi Laddera ancora ancora Ma in competitive Zero barrato E anche Carlitos Avete ragione Lo tiriamo su almeno in C Bea Nonostante il nerf Secondo me è ancora forte E la devo mettere Comunque sopra Piper e Pam Ma anche sopra Ma in generale Devo metterla sopra tutti qua Eh la devo mettere almeno qua ragazzi Bea Ma no Bea è più forte La devo mettere Anche qua Perché comunque come mid È ancora bella bella strong Slow Come meccanica è proprio forte Bea Iris Iris anche lei L'ho vista utilizzata Di più E la metterei Perché adesso ho un top Del TRD Edgar rigorosamente Lo metto ultimo Griff Io non l'ho visto Ho giocato tanto Sinceramente Quindi Lo metto sotto Rico Ma anche sotto Colt Grom è ancora bello forte Ragazzi Non al pari di Tic Ma una B Se la prende tutta Eh oddio Probabilmente gli alzerò Eh Penny e Grom Però vabbè Per adesso Lasciamoli lì Anche Bonny ragazzi L'ho vista giocata Veramente bene Sto mese Eh La metto sopra Brock Non sopra Bea Ma sopra Brock E anzi In Italia la tiro un po' giù Eh ma Grom e Penny Ragazzi li devo tirare su Sincero Ok Poi abbiamo Hank Hank ragazzi Non è facile Posizionarlo Perché non l'ho ancora visto Ovviamente in competitive Ma io comunque Nonostante il nerf Una A Le la darei Perché comunque Fa dei bei danni Eh Non è facile Collocarlo Sinceramente Eh Forse in fondo Alla tiro Forse in fondo Alla tiro Poi abbiamo Poi abbiamo Mortis Che è rientrato Un pochettino Nel meta Ma lo lasciamo in F Abbiamo Tara Che Tara ha avuto Un bel esploit Devo dire La metterei A livello di Carl Sai Perché comunque È migliorata parecchio È un brawler Che è da tanto tempo Che è basso Nella mia tier list Quindi La metto La metto comunque Un po' più in alto Ok Jin è l'eterno Brawler schillato Eh Lo metterei No beh In E Non si può vedere In D In D Sopra Jesse Sì Sopra Jesse Max ragazzi Stesso discorso Di Stu Lo metterei giusto Sotto Hank Vabbè allora per adesso Mettiamola in B Perché comunque È stata nerfata Però oddio no È più da A È più da A Mr.P Anche devo dire Che l'ho visto Prendere molta value Potrebbe starsene qua Vicino a Jin Il semello È un brawler Che mi piace sempre Sinceramente Lo reputo sempre Un buon Situazionale Lo metterei Ma tranquillamente Vicino a Carl Sai Quindi In Cigia Il buon Byron Ancora Giù di tono Lo mettiamo in E Perché comunque Qualcosina fa Forse lo mettiamo Sopra Griff Ma Bull Anche lo mettiamo Sopra Griff Squeak Un tier B Pieno Glielo diamo Anche se sarebbe Da A Perché è bello Bello slower Grey ragazzi Grey Mi è piaciuto tantissimo Le andiamo a dare un A E lo mettiamo Sopra Guardate Sopra Pegni addirittura Perché è veramente Tanta roba Sto mese E mi è piaciuto Proprio tanto Guarda Quasi quasi Gli darei un colpetto Per farlo andare in S Ma Non lo so Sono un po' indeciso Questo mese È stato veramente Fortissimo Grey Ma si dai Grey Gli diamo l'incoraggiamento Lo mandiamo in S Lo mandiamo in S E anche Willow Ragazzi È cresciuta Tantissimo La metterei Vicino a Barley Ma anche Un po' sopra Barley Sai Guarda Farei una roba del genere Cambio un po' di posizionamenti Faccio una roba così Spike Spike È quel brawler Sempre verde Nel vero senso della parola Gli diamo un Un posticcino vicino a Tara Sì Cro Il cro lo teniamo più alto Lo potremmo tenere Guarda Anche in A Ma anche Sopra penni Facciamo anche una roba così E così Ok ho cambiato un po' Perché Max meritava qualcosina di più Leon Allora Viene utilizzato in effetti Non è che possiamo nasconderci dietro un dito Sarebbe da mettere qua Secondo me Però 8 bit è meglio Anzi 8 bit sai cosa ti dico Lo metto qua E Barley lo porto qua C'è da dire che non mi piace molto Leon Come Sandy Sandy è un altro brawler Che in realtà viene utilizzato un po' Ma a me proprio non piace Ragazzi Non lo metto in fondo al d E son bravo Ambra lei invece si è un po' spenta Haha l'avete capita Ehm Molto difficile da collocare Penso qua tra Piper e Pam Ma non sono convinto eh No secondo me ho sbagliato proprio su Ambra Ambra Raga non lo so sincero Penso qua Penso qua vicino Leon Penso qua vicino Leon Ok Mag ragazzi Non si sa come È un TRS ancora sto mese Cioè Devastante Devastante semplicemente Non so Sembra che Anzi che nerfarla Sia stata potenziata Perché È stata utilizzata addirittura meglio Chester devo dire che Lo tiro un po' su Lo porto in E Se non sbaglio L'avevo messo in F Le altre volte In realtà meriterebbe anche Di stare vicino Rico eh Ehm È salito un po' Chester Alla fine della fiera Gale invece un po' Un po' spentino Anche lui Lo mettiamo Magari sopra il Griff Ma un po' così Al buon Surge Li confermiamo Assolutamente Il TRS Ragazzi È troppo forte Anzi Lo porto sopra Gaz Sinceramente Anche Meg la porto sopra Gaz No beh Gaz è sopra Meg no Anche la colette Mi è piaciuta parecchio Non saprei dove collocarla Sincero Tra Brock e Willow Così Lu ancora non convince Al 100% Ma gli diamo comunque Un posto vicino Sandy Ringio mi è piaciuto tantissimo Invece sto Sto qualifier di nuovo Lo metto vicino al Brock E porto Squeak in A E allora anche il primo Lo portiamo in S No Porto Tic in S Papapam Avete capito bene È un troverino in S Ce lo mettiamo Dai Belle la mettiamo Dopo Nita Buzz Lo mettiamo Buzz Nell'ultimo mese Sono stato cattivissimo Con lui Devo dargli Almeno Una roba del genere Così Ok Ho cambiato anche Bo e Jean Ash Tutti ci sostenono Dire che è forte A me non piace Per nulla ragazzi Oh mio dio Cosa gli devo dare Ad Ash Gli dovrei dare A Probabilmente Ma a me proprio Non piace Non lo posso vedere Eh Gli do un C Ad Ash No Non ce la faccio Non mi piace Non mi piace Come brawler Tantissimi lo adorano A me non piace Ok Lola oggettivamente Un po' giusto Mese Un po' scarica La mettiamo anche Lei in C A fianco a Eh Ma ho capito Che Ash Lo devo portare su E anche Poch Lo devo portare su Fang 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 In realtà Non male Lo metto vicino a Buzz Ma non sono sicurissimo Eve Eve tanta roba Anche lei La mettiamo qua E a sto punto B la portiamo in A Janet Non si è capito come L'hanno nerfata Ma è ancora fortissima Gli devo dare almeno un B Otis invece Anche lui è bello forte Gli devo dare un A pieno E a sto punto Il primo Lo porto Lo porto su un po' Sì E Max Estu l'inverto Sam è andato giù Parecchio di tono Secondo me Lo mettiamo a capo di D E Sandy La buttiamo giù In E Buster Forse Ancora peggio No Buster No in realtà Perché sto mese L'ho visto usato in combo Con Jin Non male Non mi è dispiaciuto Però comunque Lo devo tenere qua In E Anche Mandy Anche Mandy in realtà Non malaccio La mettiamo comunque Sopra Rico RT Io invece mi sento di promuoverlo Di metterlo in S Perché comunque Tanta roba Molto molto forte E Macy Per concludere Non è ancora arrivato In competitivo Ma secondo me Un posticino Di questo tipo Se lo potrebbe Anche portare a casa Ok Questa direi Che potrebbe essere La nostra tier list Ragazzi Fatemi sapere Cosa ne pensate Vi ricordo in descrizione Il link Per poter creare La vostra Vi lascio proprio Il link Che vi rimanda A questa schermata Voi cliccate reset Come ho fatto io All'inizio del video Potete realizzare La vostra Signori Io vi ringrazio Per la visione Ci becchiamo Alla prossima E Ciao belli